SUTU Abbiamo detto SUTU a cui questo Adapa, Adamo, ruppe le ali del vento, era un uccello e questo vento era il vento del sud, portatore di tempeste e di malattie. Questo termine vento del sud apparteneva a Ninlil che era una dea che vuol dire Ninlil appunto signora del vento e era chiamata anche sud, quindi ha una perfetta corrispondenza con questo vento del sud a cui l'atapa, Adamo, ruppe le ali. Ma lo stesso termine vale per Lilith, la famosa Lilith che in molti testi tra cui Qumran, Isaia eccetera eccetera si parla di Lilith come la prima, adesso li vedremo tutti quanti, la prima compagna di Adamo. Nella mitologia Lilith vuol dire appunto signora del vento, quindi ha una perfetta corrispondenza con questa Ninlil. Quindi mi sono chiesto cosa, perché sempre dietro a questi racconti mitologici ci nasconde sempre attraverso delle allegorie e dei fatti che sono avvenuti. Nella mitologia sumero-accadica questa Lilith, quindi la prima compagna di Adamo, viene identificata con chi si kill Lilith l'H4 e appare in una storia all'albero Ulupo in trascrizioni mesopotamiche del terzo millennio avanti Cristo. In questo testo ci sono come protagonisti Nanna e Gilgamesh e nell'epopea di Gilgamesh si parla appunto poi tra l'atto di questo diluvio. Inanna, questa dea figlia di Elil secondo alcuni testi, trova un albero Ulupo sulle sponde delle Eufrate. Questo albero è stato sradicato dall'erosione dell'acqua, lo prende con sé per piantarlo nel giardino con intenzione di utilizzarlo, doveva fare un trono, un letto e però l'albero dopo che era cresciuto non lo poteva più utilizzare. Il racconto ci dice, quindi un serpente che non può essere incantato fece il suo nido tra le radici dell'albero Ulupo. L'uccello Anzu mise i suoi piccoli tra i rami dell'albero e la vergine oscura Lilith costruì la sua casa nel tronco dall'albero Ulupo, in questo mito si racconta di Lilith e di un serpente, oltre che dell'uccello Anzu. Lilith appare appunto come serpente. Nel racconto della Genesi abbiamo un serpente, voi tutti conoscete la storia di Adamo ed Eva, di un serpente che cerca di tentare Eva offrendogli il frutto della conoscenza da un albero, frutto su cui Dio aveva imposto il divieto di dover mangiare. Nella Bibbia Lilith compare una sola volta in Isaia, dove si descrive la desolazione di Edom e ce l'abbiamo nell'interlineare ebraica. L'edizione C'è del 74 invece traduce Lilith con civette, quindi viene tolto Lilith da Isaia e lo raducono col civette che era un uccello e noi abbiamo il serpente, uccello nella storia dell'albero Ulupo. Nel dizionario di usi e leggende ebraiche alla voce Lilith si scrive prima moglie di Adamo. La prima fonte della storia che descrive Lilith come moglie di Abramo è l'alfabeto di Bensira. Era intitolata Jesho a Bensira del II secolo a.C., ma in realtà l'unonimo autore di questo racconto lo prese da uno scritto del X secolo a.C. Nel libro viene raccontato che Lilith rifiutò le richieste di Adamo durante il rapporto sessuale e lo abbandonò. Questo è il racconto. Ella disse non starò sotto di te. Ed egli, cioè Adamo, rispose a Lilith, e io non giacerò sotto di te, ma solo sopra. Per te è adatto stare solamente sotto, mentre io sono fatto per stare sopra. Quindi c'è una rottura tra questi due personaggi, tra la prima moglie di Adamo, Lilith, ed Adamo stesso. Ovviamente qui si nasconde qualche evento che è successo, che ha portato ad uno scontro tra i due. Andiamo nel racconto biblico, dove oltre Adamo e Eva è presente il serpente. Il serpente era la piastuta di tutte le bestie serbatiche fattene al Signore Dio. Qual è disse alla donna? È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente. Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non lo dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventeresse come Dio conoscendo il bene e il male. Che cosa abbiamo, che cosa c'è scritto in questo testo? C'è il divieto da parte di Dio di mangiare ad Adamo e ad Eva. Nel racconto di Adamo, se vi ricordate, che cosa disse Enki ad Adamo? Che quando sarebbe andato da Anu, se gli offriva il cibo, quel cibo lo avrebbe fatto morire per cui non doveva mangiarlo. Quindi abbiamo un'analogia pressoché identica dei due racconti dove c'è un Dio, Enki, che era il padre di Adapa, Adamo, che gli dà il divieto di mangiare, altrimenti avrebbe perso la sua immortalità, la sua saccezza. Cosa che succede quando Eva prende da Lilith il cibo, lo dà Adamo e quel Dio che li punisce, togliendogli l'immortalità, era il Dio Enki, anche se nel racconto dell'Adapa poi fu Anu, in questi racconti Anu è padre di Enki ed Ellil, a far perdere l'immortalità ad Adamo perché si rifiutò di mangiare il cibo che gli aveva offerto. Ci ritroviamo quindi con due dei, uno è Enki, nella Bibbia, l'altro è il Dio Anu. Queste divinità furono trasposte poi nella Bibbia e nella Bibbia ci ritroviamo davanti a più di un Elohim. Ogni volta che si parla di un Dio va interpretato in base ad un parallelo con questi terzi sumerici, quello che abbiamo fatto, per capire di quale di questi dei si trattava, ma gli stessi discendenti di Noè poi vennero dei figati diventando dei egizi come vedremo tra poco. La domanda che ci dobbiamo fare è, perché Adamo ripudiò questa Lilith? Abbiamo visto che Lilith voleva dire signora del vento, esattamente come Nellil, che voleva dire anche sud, vento del sud, e Adamo ruppe le ali a Sud, questo vento del sud, che nell'allegoria voleva dire una rottura del rapporto con la sua prima moglie, appunto Lilith. La creazione dell'uomo e della donna viene citata nel primo capitolo e dice Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Successivamente si parla ancora una volta di un'altra creazione in Genesi. E viene detto, Genesi 2,23, quando Adamo vede la prima donna appena creata da Dio pronuncia questa frase, questa volta è ossa dalle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Leggete attentamente il testo, questa volta, qui stiamo parlando di Eva, della seconda moglie, ecco perché c'è scritto questa volta, indica che in precedenza aveva avuto un'altra puntagna, che non era tra l'altro del suo stesso sangue, ma questa volta invece è ossa delle mie ossa, seme del mio seme, carne della mia carne. perché questo? Perché i primogeniti in quel periodo di questi personaggi dovevano nascere da incesto, quindi rapporti tra fratello e sorella, altrimenti il figlio avrebbe perso la primogenitura e l'eredità. Ecco perché probabilmente Adamo poi ripudiò Lilith, perché non era sua consanguinea, infatti il padre di Ninlil, che identifichiamo con Lilith, era un agricoltore del dio Ellil, quindi come vedete hanno tutte poi caratteristiche umane questi personaggi e non era di sangue reale, mentre a questo punto il nostro supposizione è che Adamo, sangue del suo sangue e ossa delle sue ossa questa volta, perché è proprio la sua seconda moglie, ecco che si parla di una moglie e quindi in questo caso ci ritroviamo con la storia del serpente di Lilith che ci va ad indicare una rottura del rapporto tra Adamo e la sua prima compagna Lilith e ancora dalla Bibbia, Dio punisce tutti e tre i personaggi, quindi il serpente Lilith che diventerà un demone, Adamo ed Eva e dice poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita, io porrò in nemicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu ne insiderai il calcagno. Ora, ci dobbiamo immaginare un serpente con una stirpe e i figli di Adamo ed Eva che gli dicano quei serpentelli figli di questo serpente, quando si parla di stirpe e di seme, la traduzione è seme, si sta parlando ovviamente di un'altra donna, quel serpente rappresentava appunto Lilith barra Nillil, questa dea sumera. Motivo di repudio in realtà quale fu? Dai testi sumeri, il racconto di Elil e Nillil che si svolge nella Nippur celeste, succede che Elil si innamora di questa Nillil, abbiamo detto che Nillil, signora del vento, Lilith, signora del vento, Lilith, prima moglie di Adamo. Quindi abbiamo Elil, fratello di Enki Oea, quindi zio a questo punto di Adamo che si innamora della compagna di Adamo, di questa Lilith. Nillil, la mamma della fanciulla, Numbarshené Sheguno, la mette in guardia la figlia, dallo zio, scusate, da Elil, zio di Adamo e dalle sue intenzioni e quindi gli dice di non andare a fare il bagno nel canneto. Nillil ignora il consiglio della madre, trasgredisce, Elil la vede e con l'aiuto del suo consigliere Nushu la raggiunge nel canale dove Nillil sta facendo il bagno e dopo un primo rifiuto della fanciulla giace con lei prendendola nel canneto con la forza e la rende gravida del primo figlio, Sin, che diventerà un dio lunare, si maschererà, la prenderà con l'inganno a Elil e questa gli rimane incinta. Ma tra Nillil ed Elil nascerà altri figli e tutti questi figli praticamente diventeranno dei.